Troviamo l'avversario più forte del girone, troviamo secondo me un avversario che è strutturato per arrivare in fondo perché ha giocatori di grande qualità, veramente di grande qualità, da Minerat a Zubcic, Stockton, Frazier, i giocatori russi cioè veramente una squadra completa, secondo me la più forte del girone è una delle squadre che può ambire e arrivare in fondo quindi detto questo è una partita che porta stimoli già da sola, deve dire che viene dietro a una settimana per noi difficile a livello proprio di recupero fisico e mentale e quindi il mio obiettivo adesso è far recuperare la squadra perché comunque è stata una settimana con due trasferti molto pesanti, perdendo due notti quindi questo sarà l'obiettivo, però Sarato è una squadra di grande atletismo, di grande fisicità e talento tecnico perché comunque è una squadra che è completa in tutti i ruoli, gioca fisica, noi dovremmo essere bravi secondo me a alzare il ritmo finché lo potremo fare a non fermare mai la palla o a fermarla comunque il meno possibile cercando di dar pochi riferimenti e cercando di farli pensare un po' di più a metà campo, questa è una cosa che cercheremo di fare cioè non lasciarli giocare liberamente quello che è il loro basket, che è un basket di efficacia perché ha giocatori secondo me di grande talento grazie